I BITCOIN sono una valuta virtuale generata online, tecnicamente si dice minata, che rappresenta perfettamente la natura stessa dell'online, ovvero non sono centralizzati nella produzione e non sottostanno a una banca centrale o autorità competenti. Da un certo punto di vista sono autoregolamentati, o meglio sono regolamentati dagli algoritmi che fanno sì che non vi possano essere bitcoin per un valore maggiore di 21 milioni. Senza entrare in tecnicismi che in questo momento non ci interessano, la moneta virtuale viene generata direttamente da utenti definiti miner e il guadagno oggettivo dipende dalla potenza computazionale del proprio sistema, come a dire più lavori, più guadagni, ma anche più consumi in termini di energia. L'enorme problema del BITCOIN sta nella sua stupefacente volatilità, non essendoci sovrastrutture a calmirarlo, e nella sua incredibile caratteristica energivora, visto che per produrli serve sempre più capacità computazionale, la quale costa moltissimo in termini di energia. Ci sono molte altre criptovalute in circolazione ed alcune di queste, in riferimento alla versione che hanno raggiunto, possono anche essere meno energivore rispetto al BITCOIN. Bene, veniamo a noi. Elon Musk non ha bisogno di presentazioni. È stato uno dei più grandi sostenitori delle criptovalute, partendo proprio dal BITCOIN e dicendo addirittura che le Tesla sarebbero state vendute anche in BITCOIN. Trovare un'applicazione pratica alla criptovaluta era quello che mancava per renderle davvero popolari, quindi BITCOIN salgono vertiginosamente di valore, portandosi dietro a tutte le altre, da Cardano agli Ethereum. A un certo punto il buon Musk dice che non ci sono mica solo i BITCOIN, ma anche altre valute molto interessanti come lo sconosciuto IPU DOGECOIN. A quel punto tutti a comprare i DOGECOIN al grido di l'ha detto Musk. Poi che cosa succede? Musk dice, ah, i BITCOIN consumano troppa energia, forse è meglio pensare ad altro e tutte le cripto crollano. Fossimo in un mercato regolamentato, questa attività avrebbe un nome che sarebbe AGIOTAGIO, ma visto che l'ambiente in cui ci muoviamo, questo tipo di attività prende un altro nome, ovvero Troll, un soggetto che interagisce con gli altri tramite messaggi provocatori fuori tema senza senso o del tutto errati, con l'obiettivo di disturbare o avere un tornaconto. Elon Musk ci sta trollando, sta trollando il mondo intero, facendo alzare e scendere il valore di valute inesistenti per guadagnare senza muovere un dito. Forse è un genio, poco trasparente senza dubbio, troll di sicuro.